Ragazzi c'è appena stato un mega evento e ho combattuto per ben 40 minuti, più o meno, anzi direi di meno, più o meno mezz'ora contro ben 300 player e me la sono battuta fino all'ultimo purtroppo sono arrivato solo secondo però veramente ero molto molto vicino al primo posto mi sarebbe tanto piaciuto arrivare primo però purtroppo ho avuto ben 10 secondi di ritardo sul primo perché sono caduto dalla torre finale del barco noi ci becchiamo presto, questo era un piccolo short, un piccolo video solo per farvi sapere ciao